Più di un chilo di marijuana, 19 piante in produzione ad alto contenuto di principio attivo e quasi 12.000 euro in contanti raccolti spacciando droga più non posso nel giro di pochi giorni, inoltre po'. Ma il fiorente giro di cui faceva parte questo ventotenne di Pietra De Giorgi, dove è stata trovata anche una coltivazione di un laboratorio della cannabis, è stato fermato dai carabinieri che l'hanno preso con le mani nel sacco e arrestato. Che ci fosse qualcosa che non andava in lui, i carabinieri del radiomobile di Stradella se ne erano accorti subito l'altra sera quando l'hanno fermato dalle parti di Portalbera e una volta inserito il suo nome nella banca dati hanno avuto la conferma di dover approfondire quel controllo. Nei posti più impensabili dell'abitacolo gli agenti hanno trovato tre sacchetti sigillati contenenti circa un etto di marijuana ed è a quel punto che hanno deciso di andare a controllare anche la sua abitazione. Per trovare le prime 19 piante di cannabis nel giardino i carabinieri non ci hanno messo molto, poi nella cantina della sua casa hanno trovato un autentico laboratorio con lampade, ventilatori, umidificatori, essicatori, bilancini di precisione e materiale per confezionare il prodotto. Insomma un'attività in piena regola o meglio fuori da ogni regola. La posizione dell'uomo già tutt'altro che semplice si è poi aggravata quando gli agenti hanno trovato anche la cassa della per così dire impresa 11.750 euro in contanti. Il 28enne è stato quindi dichiarato in arresto e portato in cella di sicurezza in attesa del processo per direttissima.